Gravago, i primi documenti storici. I primi documenti medievali relativi all'Italia settentrionale Longobarda risalgono al VII secolo. Aprono la serie tre concessioni fatte dai re a favore del monastero di Bobbio, mentre il quarto documento, databile tra il 625 e 1626, riguarda la risoluzione di una disputa tra Parma e Piacenza per la determinazione dei rispettivi confini. Controversia destinata a ripetersi quest'ultima, tanto che nell'ottobre del 674 re Pertarido dovette affrontare e porre fine alla questione. Per fare ciò furono valutate le indicazioni fornite da persone anziane e pastori, che in quei luoghi conducevano abitualmente mandrie di porci. La loro testimonianza fu preziosa e rivela l'importanza capitale, già a quell'epoca e in questi precisi luoghi, dell'economia legata al bosco. Coste e crinali appenninici erano ricoperti da folte boscaglie, dove per molti era complesso orientarsi, tranne per chi, appunto, vi guidava porci semiselvaggi alla ricerca di ghiande e fagiole. Nella definizione dei confini stabilita dai funzionari del re, quindi, vennero adottati come segni distintivi elementi del paesaggio e relative componenti vegetali, quale l'olmo e il tiglio, corsi d'acqua e croci infisse sulle cime dei monti per mano dell'uomo. La documentazione non si interrompe nel secolo successivo, di cui conserviamo, tra i tanti, cinque documenti scritti a Varsi, tre stilati a Vianino, uno a Tollarolo, presso Bardi, uno in una, non meglio precisata, Isola del Ceno. Non sono pochi se si pensa che per tutta l'Italia settentrionale e Longobarda tali documenti, tratta di transazioni economiche e di atti processuali, sono in tutto 61. Tra questi, il privilegio emesso dal re dei Longobardi, detto Il Prando, da altri Il De Prando e dal rivolgo comunemente Aliprando, datato in Pavia il 22 marzo 744 in favore del Vescovo di Piacenza, che confermò la donazione del monastero di San Michele in Gravago. Nobilitò anche l'istessa cattedrale e Vescovato di Piacenza col dono del monasterio e terra di Gravago. Si tratta della prima fonte documentaria in cui viene citata la località di Gravago. Due anni più tardi, nel 746, tale privilegio viene riconfermato dal re Rachis e, in epoca carolingia, da Ludovico il Pio, il quale ordinò nell'anno 820 la restituzione del monastero, indebitamente sottratto al Vescovo Giuliano, al suo successore Podone. La documentazione relativa al monastero Benedettino prosegue ininterrotta fino al 4 marzo 841, quando in una permuta di terre, rogata a Carpaneto Piacentino, si legge De Cella Monasteri Gravago. Tra le terre in questione, site in Betolasco e in Costa è presente una cella del monastero di Gravago.